Ferentino's Dialect Story and Verb Il menù degli Cornuti Ora dico quello che ci siamo mangiati al ristorante agli raduni degli Cornuti la sera da San Martino, il protettore degli Cornuti Siamo cominciati a mangiare gli stuzzicchini rustici Dopo prima ci siamo mangiati la zuppa con il pane sotto e la cipolletta appena raccolti la mezzomanica che gli succhi la sanzicchia Dopo ci siamo portati gli peti di porco con il codico e gli fasuli Dopo ci siamo messi da nanzi gli straccetti di carne e gli funghi Poi intorno i bruccoletti ripassati alla padella con gli agli, l'olio e la puparola La puntarella con l'alice e gli agli ingiaccati insieme rende l'immortale Poi finire ci ho fatto soppare la ciamolletta all'uina nuova russa E poi dopo ci ho fatto mangiare la gallarosta Ha finito tutto con una baldoria che però non si può raccontare Ferentino, 6 gennaio 2007 Grazie